A tre giorni dal voto, con grandi speranze da parte del Movimento 5 Stelle effettivamente, abbiamo incontrato Beppe Grillo, un'intervista che ha concesso alla RSI. Da questa intervista abbiamo estrapolato alcune parti, quelle relative al dibattito sulla futura Presidenza della Repubblica sono state superate naturalmente dai fatti di attualità di questi giorni. Non è superato il contenuto delle motivazioni e anche delle preoccupazioni, come diceva prima anche Aldo Sofia, del Movimento 5 Stelle e in particolare del suo leader. Allora cominciamo con l'Italia che ha in mente, Beppe Grillo. Innanzitutto c'è questo modo di trattarci che bisogna smetterla perché siamo il primo partito in Italia, è inutile dire i grillini, questi dilettanti allo sbaraglio, con i due guru che si nascondono dietro il computer. E' questa la fisionomia che esce dai giornali, che siamo così mezzi lì, che non sappiamo neanche cosa fare, abbiamo i titoli nelle prime pagine dei giornali se uno smarrisce le ricevute di 200 Euro, hai visto questi qui sono come gli altri. Noi siamo il primo partito. Avesse detto Bersani vogliamo governare insieme, insieme, la proposta doveva essere questa, governare insieme, non i nostri voti, i nostri voti non te li possiamo dare. Noi siamo il primo partito. Avesse detto Bersani vogliamo governare insieme, insieme, la proposta doveva essere questa, governare insieme, non i nostri voti, i nostri voti non te li possiamo dare. Noi siamo il primo partito. Avesse detto Bersani vogliamo governare insieme, insieme, la proposta doveva essere questa, governare insieme, non i nostri voti, i nostri voti non te li possiamo dare. Noi siamo il primo partito. Avesse detto Bersani vogliamo governare insieme, insieme, la proposta doveva essere questa, governare insieme, non i nostri voti, i nostri voti non te li possiamo dare, noi siamo il primo partito, avesse detto Bersani, vogliamo governare insieme, insieme, la proposta doveva essere questa, governare insieme, non i nostri voti, i nostri voti non te li possiamo dare, noi siamo il primo partito, avesse detto Bersani, vogliamo governare insieme, insieme, la proposta doveva essere questa, governare insieme, non i nostri voti, i nostri voti non te li possiamo dare, quale fiducia diamo a della gente che è mischiata nel Monte dei Paschi di Siena, hanno una dirigenza da cambiare, noi facciamo un sacco di battaglie, sono sicuro che facciamo un sacco di battaglie insieme a quelli del PD di giovani, insieme al PDL di giovani, raccogliamo firme per l'acqua, contro le centrali, contro il biomasse o l'inceneritore.